Alla fine abbiamo costretto questa maggioranza a venire a riferire all'interno della conferenza dei capi gruppo e questa è la prova di quello che sosteniamo ormai da settimane. Il fatto cioè che non c'è alcun ragionevole riservo da dover tenere e che quello che oggi ci è stato riferito dalla maggioranza tranquillamente poteva e doveva essere riferito a tutti i cittadini abruzzesi 20 giorni fa. Il quadro che emerge però da questa audizione è tutt'altro che rassicurante sia sul piano delle prestazioni e dell'accesso alle cure dei pazienti in un'intera ASL dove i servizi non sono ancora normalizzati e non sono assolutamente ripartiti come sarebbe stato opportuno e come è necessario, sia sul piano dei dati personali che sono stati rubati e vera spada di Damocle che pende su tutti i cittadini. Francamente l'atteggiamento che continua a mantenere questa maggioranza, il Presidente Marsilio, è quello di non voler gestire una crisi, una vera e propria crisi e questo è da denunciare e da censurare. Abbiamo preteso che venisse a riferire nel prossimo Consiglio regionale e adesso ci aspettiamo che il Presidente non solo si presenti e riferisca senza giri di parole ma soprattutto ricordi qual è il suo ruolo e la responsabilità che ne consegue perché lo deve a tutti gli abruzzesi. Grazie. Grazie. Grazie.